L'Um Ciona ieri ha svolto le visite mediche a Formello e presto sarà un nuovo calciatore della Lazio, contratto da un milione a stagione di ingaggio ed anche questo testimonia la fiducia che la società di lottori pone nel classe 2003, che avrà modo di giocare ancora in massima serie e di candidarsi per il prossimo biegno dell'Under 21 della Francia. Ciona è stato ingaggiato a costo zero dalla Sanitana che si impegnò a corrispondere al Rennes il 40% della futura vendita, oltre ad una percentuale del 10% ai suoi agenti. Se ieri prima avesse creduto fino in fondo nelle intuizioni di Morgan De Santis ed avesse corrisposto subito un modesto indendizio al club francese, oggi la Sanitana non intascherebbe solo 4 degli 8 milioni della clausola inserita nel contratto del francese e valda in caso di retrocessione. Insomma, Ciona in pochi mesi è diventato da un giovane poco noto al grande pubblico un calciatore di livello su cui ha puntato un club di massima serie che sarà impegnato anche in Europa, nella prossima stagione. Le due facce dello scouting sono presenti sulla stessa medaglia che è proprio rappresentata da questo ragazzo originale del Chad, sempre sorridente e capace di strappi poderosi palla al piede, perché da un lato è la dimostrazione che lo scouting serve e può dare grandi soddisfazioni a costi moderati, dall'altro però una società non può pensare che si possa sempre pescare il jolly a cifre vicine allo zero. Un calciatore preso a zero, riveduto ad 8 milioni più 2 di bonus e manna dal cielo e certifica la competenza e la bravuda di chi lo ha seguito e l'ha preso. La cessione di Ciona e la conseguente plusvalenza vanno scritte a merito di De Santis e dell'area scouting del tempo. Da ottobre quel lavoro di scoperte e selezioni di potenzialità lenti si è arrestato e questo dimostra che nei fatti la serenana abbia smesso di credere in questo tipo di lavoro. A genere del resto la totale mancanza di scouting si è vista, altrimenti non sarebbero arrivati i calciatori che in nessun modo hanno migliorato la rosa. Dunque prendere un calciatore senza svenarsi è cosa buona e giusta ed è l'auspicio di qualsiasi club, ma pensare che lo scouting debba poter lavorare solo ed esclusivamente su queste basi è una pretesa non certo ragionevole, altrimenti capita che con Ciona di turno arrivino anche gli steward della situazione. In B chiaramente sarà un'altra storia perché il target dei calciatori aggredibili e il budget da investire cambieranno, ma fare differenza sarà sempre e comunque l'intuizione dell'osservatore e se non si investe in risorse umane tutto questo verrà a meno.